Se hai ricevuto problemi riguardo alla lingua sul gioco Warhammer Space Marine 2, quindi in questo caso l'interfaccia è in italiano, però il problema è che se nel gioco te lo ritrovi in un'altra lingua è possibile modificare i file nella sua cartella, quindi dobbiamo entrare direttamente nella cartella del gioco, quindi andiamo nella sua cartella. Se c'è il file stream trattino basso emu, ci clicchiamo un attimo sopra, scendi fino a giù fino a trovare così il language, da english metti italian, tutto piccolo, vai su file e vai su salva, una volta fatto avvia Warhammer. Caricamento delle risorse A me l'interfaccia è in italiano, quindi è possibile anche modificare la lingua nel gioco se in questo caso si è abilitato così quel tasto perché alcuni hanno avuto problemi proprio a non riuscire a cambiare la lingua nel gioco perché è bloccata. Quindi l'opzione di cambiare la lingua nel gioco è bloccata. Vado su impostazioni ed eccola qua. Lingua dei testi italiano, lingua dell'audio inglese. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Ciao.